Il Consiglio regionale esprime piena solidarietà ad Israele e preoccupazione per la spirale di violenza innescata dall'attacco di Hamas, soprattutto nei confronti delle popolazioni civili vittime innocenti del conflitto. Questo il contenuto di una mozione approvata all'unanimità senza dibattito. L'atto ricostruisce la lunga storia del conflitto israelo-palestinese e ribadisce la ferma condanna al ricorso a torture e massacri indiscriminati contro la popolazione civile inerme. Il documento auspica l'apertura di corridoi umanitari per garantire la messa in sicurezza dei civili coinvolti, il proseguo della trattativa di pace e degli accordi del 2020. Auspica anche che la comunità internazionale con l'Europa protagonista possa iniziare quanto prima iniziative diplomatiche per interrompere la spirale di violenza e rafforzare l'autorità nazionale palestinese come legittima rappresentante delle istanze di quel popolo. Un'andanna unanime nei confronti dell'attentato veramente vile e crudele che Hamas ha sferrato nei confronti delle popolazioni israeliane e anche di solidarietà a tutte le popolazioni coinvolte. Non è scontato che le maggioranze e le opposizioni si mettano d'accordo sulle cose. In questo caso noi abbiamo lavorato perché questo avvenisse partendo anche da un documento che noi avevamo presentato e credo che la richiesta che è lì contenuta di uno sforzo che deve riprendere dal punto di vista diplomatico e che veda anche l'Europa come protagonista per far cessare le armi, per aprire corridoi umanitari nei confronti della popolazione di Gaza che ora si trova nelle condizioni di dover sfuggire magari anche ad ulteriori azioni di guerra. Tutto questo ha messo d'accordo maggioranza e opposizione. Mi fa piacere che il Consiglio regionale della Toscana sia riuscito a produrre un atto unitario, un atto che condanna in maniera univoca e senza sé e senza ma qualsiasi atto di terrorismo che si stringe vicino alle popolazioni colpite dalla violenza, che rifugge la violenza come metodo per risolvere controversi internazionali e che auspica che il mondo libero possa fare il proprio ruolo cioè lavorare per arrivare a una situazione di pace. Anziché votare 4-5 atti differenti, uno per forza politica e se ne sia votato uno solo, credo sia un segno di maturità anche di tutte le forze politiche che siedono nel Consiglio regionale della Toscana. È un atto importante e serve soprattutto a far capire che l'intento, il primo intento che deve essere portato avanti in questo momento è garantire alla popolazione civile in Ermi la possibilità di mettersi in salvo. Con i corridoi umanitari abbiamo sentito purtroppo che l'Egitto questa mattina ha negato la possibilità di un corridoio umanitario per Gaza ma soprattutto per cercare di mettere in salvo tutte le persone in attesa della de-escalation che deve essere assolutamente portata avanti dalla comunità internazionale. La mozione in questo senso spinge l'Italia insieme all'Europa ad avere un ruolo forte per questo processo che deve portare finalmente a una pace dopo decenni in cui quella zona del nostro pianeta non riesce a trovarla. È una tragedia di carattere umano, secondo me l'opinione pubblica internazionale è fin troppo silente rispetto al dramma che sta vivendo il Medio Oriente e quello che si sta consumando con una faida reciproca credo che meriti un impegno importante dell'Unione Europea, del nostro governo. Serve una presa di posizione netta, di condanna della violenza di Hamas e di una risposta ovviamente legittima che comunque deve non uccidere, non interessare i civili. Dobbiamo impegnarsi per fare in modo che i civili vengano salvaguardati e nel contempo serve diplomazia, serve politica, serve attuare un'azione che consenta a due popoli e a due stati di vivere in armonia. Serve un grande scatto di responsabilità da parte delle Nazioni Unite che ne hanno neanche un pezzo di questa responsabilità se guardiamo e rileggiamo la storia degli ultimi 70 anni che oggi si stanno defilando fin troppo da un'assunzione di responsabilità e di presa di posizione. Quindi credo che l'Unione Europea in primis mi sembra non stia facendo nulla e questo è molto grave. Io spero che possa esserci una risoluzione anche se difficilmente potrà essere nell'immediato. Questo poi comporta tutta una serie di concatenazioni con l'attuale situazione Russia e Ucraina. per cui credo che ci stiamo avviluppando noi come genere umano su una situazione che invece dovrebbe poter vedere la salvaguardia dei paesi assolutamente unica. Quindi ognuno che sia padrone nel proprio Stato. Dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo un ringraziamento a tutte le forze politiche per l'approvazione unanime della mozione. Ho voluto far partire i lavori del Consiglio stamani con un minuto di silenzio per tutte le vittime innocenti di questa tragica barbaria che il gruppo terroristico di Hamas ha scadenato. Donne, uomini, bambini, tanti bambini sono stati uccisi dalla violenza del gruppo terroristico di Hamas. E allora in aula ho chiesto un impegno di tutte le forze politiche per arrivare ad un documento unitario che sostanzialmente chiedesse di porre fine a tutta questa violenza, di esprimere vicinanza al popolo di Israele, di costruire le condizioni perché si creino corridoi umanitari. La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Oggi evidentemente è necessario che ognuno di noi faccia la propria parte. Le immagini di violenza che arrivano ogni giorno da quei territori devono terminare il prima possibile. Serve un impegno dell'Europa, un impegno forte. L'Europa può giocare un ruolo fondamentale per fermare tutto quello che sta accadendo ed esprimiamo anche ferma condanna verso l'azione terroristica di Hamas. Presentata a Palazzo del Pegaso la sesta edizione del premio Innovazione Toscana Amerigo Vespucci, promosso dal Consiglio regionale insieme a Confindustria Toscana e organizzato da Digital l'Innovation Hub Toscana. Un premio che punta a valorizzare la tecnologia nel territorio, dedicato alle start-up innovative negli ambiti ricerca, sviluppo e innovazione digitale, sostenibilità, brevetti, ai quali si aggiunge quest'anno la sezione Welfare e parità di genere e viene confermato il premio speciale Giovani. Il bando è disponibile sul sito del Consiglio regionale della Toscana e le domande di partecipazione possono essere inviate fino al 10 novembre. Siamo alla sesta edizione di un premio per me tra i più importanti che come Consiglio regionale ogni anno finanziamo. Con questo premio noi vogliamo mandare un messaggio alle ragazze, ai ragazzi che studiano, che si impegnano sul nostro territorio, che vogliamo accompagnarli nella fase più difficile, quella in cui si vuole intraprendere qualcosa di diverso, si vuole creare una nuova impresa, si vuole costruire innovazione. Questo è il messaggio più forte. Tante aziende in questi anni abbiamo premiato, sono già 45. Quest'anno è un'edizione ancora più bella, più importante. Si è deciso di istituire un premio speciale per il Welfare e la parità di genere. Ringrazio il comitato promotore, ringrazio il vero motore Silvia Ramondetta perché in questa idea ci sta anche un po' la nostra idea di Toscana. Abbiamo lanciato Casa Toscana San Francisco, 20 start-up parteciperanno con noi dal 4 all'8 dicembre per incontrare investitori che operano sul territorio. Insomma, investire su chi fa ricerca e vuole trasformare quella ricerca in valore per il territorio e sostenere l'imprenditoria femminile sta al centro della nostra azione politica e questo premio va esattamente in questa direzione. Il premio Innovazione Toscana quest'anno giunge alla sua sesta edizione e lo fa forte dei successi che ha riscosso negli anni precedenti. Dal 2017 abbiamo raccolto e portato alla luce 270 progetti, abbiamo premiato 45 tra imprese e start-up innovative, abbiamo coinvolto 22 giudici di elevato livello in commissioni giudicatrici che appunto hanno operato al nostro fianco. È un premio che quest'anno peraltro proietta la Toscana verso una direzione 5.0, quindi verso una direzione di futuro sostenibile dove l'innovazione è certamente principalmente basata sulla digitalizzazione e l'applicazione delle nuove tecnologie digitali ma si apre chiaramente al concetto della sostenibilità ambientale e soprattutto della sostenibilità sociale con l'inserimento di una nuova sezione di concorso che è dedicata alla parità di general welfare. Al premio si partecipa molto semplicemente a partecipare quest'anno potranno essere peraltro solo le imprese e non anche altri soggetti perché Consiglio regionale e Confindustria Toscana hanno voluto puntare l'attenzione sul sostegno agli imprenditori. Si partecipa andando sul sito Premio Innovazione Toscana, scaricando il bando e la modulistica e partecipando al concorso che apre le proprie porte dal 16 ottobre alle ore 9 fino al 10 novembre prossimo. Si aspetta un mesetto, un mesetto e mezzo per la valutazione da parte appunto di una commissione giudicatrice formata da scienziati, accademici, universitari e industriali e a dicembre, entro il mese di dicembre ci saranno gli esiti e la valutazione quindi l'augurio è che anche quest'anno si aggiungano molte imprese soprattutto imprese giovanili e anche femminili ma anche imprese strutturate di tutti i settori a partecipare a questa bella occasione che rappresenta la Toscana che può raggiungere un futuro sostenibile. Sono molto orgogliosa oggi di essere qua perché è ancora una volta una dimostrazione del saper lavorare bene insieme tra l'industria e il settore pubblico quindi questo premio rappresenta un'attività che portiamo avanti da anni, c'è una novità quest'anno sulla parte della sostenibilità sociale quindi della parità di genere, filosofia nuova che deve essere trasmessa anche alle piccole e medie imprese quindi che la donna abbia le stesse opportunità dell'uomo nonostante il merito sia sempre l'elemento fondamentale ma che abbia comunque le stesse possibilità di poter lavorare e sentirsi realizzata nel mondo del lavoro. E' un grande orgoglio, è il motivo per il quale il Consiglio regionale consegna la massima onorificenza alle ali del Pegaso che è il senso di un giovane che vola, è volato a vincere un campionato italiano, indossare una maglia tricolore che nel ciclismo ha un valore importante perché se la porterà con sé per un anno in tutte le competizioni professionistiche, porta in giro il nome dell'Italia nel mondo ma porta in giro la nostra isola, l'Elba che poi di fatto è un'isola che rappresenta la Toscana e questo per noi è un motivo di soddisfazione. Queste le parole del Vice Presidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli nel conferire il premio le ali del Pegaso al campione italiano di ciclismo Simone Velasco. Questo è un riconoscimento che per quanto mi riguarda ha anche un motivo di grande soddisfazione non soltanto per aver praticato ciclismo a livello agonistico, per essere un amante di questo sport, ma un grande riconoscimento a un giovane che ha davanti a sé una grande strada, un grande futuro e soprattutto anche un momento delicato per lui dopo l'ultima caduta, quindi anche l'occasione per confortarlo rispetto a una conclusione della stagione che comunque rimarrà nella storia della Toscana e del ciclismo a livello nazionale. La cerimonia di consegna si è svolta in Sala Gonfalone a Palasso del Pegaso, presente anche il consigliere regionale Marco Landi. Simone Velasco è un orgoglio prima di tutto toscano che rappresenta la grande tradizione del ciclismo toscano e in questo caso anche elbano, essendo lui dell'Isola d'Elba, campione d'Italia, ci rappresenta anche nella tipologia dello sport perché il ciclismo è uno sport dove la passione di questo ragazzo l'ha portato a un traguardo così importante. Oggi è uno dei campioni a livello italiano che si sta affermando e su cui possiamo puntare. Questo è motivo di grande orgoglio ma anche per uno sport che vede tanti ragazzi impegnati, tanti ragazzi che fanno gavetta come l'ha fatta Simone Velasco e che oggi lo vedono veramente a livello nazionale e anche internazionale tra coloro che possono darci anche tante soddisfazioni in futuro e quindi gli auguriamo veramente un percorso sempre più importante. ma quello che vorrei dire è veramente la gavetta, la passione che si coniuga tra la persona di Simone Velasco, il nostro territorio toscano che in passato ha portato tanti campioni alla ribalta del ciclismo nazionale e internazionale e quindi gli auguriamo veramente ogni successo. È un onore ricevere questo riconoscimento da parte della regione toscana, ha dichiarato il giovane campione. Devo ringraziare tutti per questo bellissimo riconoscimento, per me è un onore, quest'anno è stata un'annata quasi magica e abbiamo raggiunto grandi risultati tra cui la maglia tricolore che è un motivo di grande orgoglio per noi e dai, siamo fiduciosi di poter continuare su questa strada. Dossare la maglia tricolore lungo tutte le strade del mondo è sempre un brivido che corre lungo la schiena, è la responsabilità di una nazione e quindi è appunto una spinta in più a dare sempre il massimo e a far vedere quanto vale la nostra terra e che insomma è noi. Quest'anno ho vestito più volte la maglia azzurra, prima i mondiali su strada di Glasgow dove abbiamo fatto un'ottima prestazione con un altro toscano doc, Alberto Bettiol. Purtroppo non abbiamo sentato il risultato pieno ma comunque è stata una grande prova di squadra e poi ultimamente ho preso parte anche al mondiale grave in Veneto. E' una bella soddisfazione dopo il Giro di Lombardia prendere parte ad una competizione comunque prestigiosa di essere competitivi, sono giunto settimo alla fine, prima degli italiani quindi magari in un futuro guarderemo anche con un occhio più di riguardo questa nuova disciplina e cercheremo di fare buone cose anche là. Grazie a tutti. Grazie a tutti.